Un giornalista straordinario, mai banale, mai disponibile a contentarsi delle banalità, uno straordinario combattente per la verità, è uno di quei giornalisti su cui generazioni intere, la mia compresa, si è formata. Inchieste belle, puntuali, rigorose, credo un esempio, un punto di riferimento non solo per i giornalisti e i giornalisti di oggi, di umani, ma per chi pensa che quel mestiere è un mestiere in grado, se fatto in questo modo, di offrire a tutti e a tutte verità, complessità, rigore, purgatorio di un maestro. Grazie a tutti.